Una madama butterfly italo-giapponese che rafforza i legami tra Bitonto e il paese nipponico. L'opera di Puccini, prodotta in collaborazione tra il Japan Apulia Festival e Traetta Opera Festival, chiuderà l'undicesima edizione della rassegna dedicata a Tommaso Traetta, con tre repliche nel teatro bitontino tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile. Un incontro virtuoso presentato nella libreria La Terza di Bari, per l'occasione trasformata in scenario giapponese con due suonatori di Shamisen, lo strumento tradizionale nipponico, dal direttore generale di Amifest e presidente del Japan Apulia Festival Konomi Suzaki, insieme all'autorità del comune di Bitonto che con la regione Puglia sponsorizza l'evento. Protagonisti titolari saranno il soprano giapponese Atsuko Kobayashi nel ruolo di Chocho San e Leonardo Gramegna, tenore nei panni di Pinkerton. Grande spazio ai professionisti residenti del teatro Traetta, con l'ansamble direttore dal maestro e direttore artistico del festival Vito Clemente e con il coro lirico Città di Bitonto diretto dal maestro Giuseppe Maiorano. Lo spettacolo farà tappa anche al teatro Curci di Barletta l'11 e 12 aprile.